Ciao a tutti ragazzi, oggi parleremo di come misurare la body fat per gli addominali per vedere come far uscire questa maledetta tartaruga che non esce in tutti i modi non esce mai, non vi è mai uscita però perché non avete avuto delle basi ben definite ok, come si misura la body fat? Attraverso la plicometria o attraverso la BIA sono delle analisi, la prima è molto semplice da fare la seconda è bisogno di un biologo nutrizionista che attraverso questo macchinario quindi bioimpedenziometria riesce a misurare i tuoi valori quindi acqua muscolare, tessuto muscolare, quantità di tessuto muscolare, quantità di grasso stabilito la tua percentuale di grasso, oltre questo potrai prendere delle fotografie su internet se cerchi body fat su google ti usciranno delle varie foto dal 10% fino al 50% di grasso se hai un 10% di grasso gli addominali sono abbastanza visibili, sono ben visibili con un 30% di grasso avrai le maniglie dell'amore strabordanti dalla mutandina oppure avrai comunque una pancetta considerevole attenzione, non significa che sarai obeso ma sarai in sovrappeso quindi questa è la percentuale giusta per iniziare il cambiamento potresti iniziare ad ottenere risultato con questa percentuale qui le altre percentuali, ovvero a salire dal 30% c'è molto più sacrificio perché ovviamente parti da una condizione più sfavorevole gli esercizi che dovrai svolgere sono esercizi che sono non per forza da fare in palestra questo significa che tu dovrai fare più esercizi cardio rispetto a quelli di resistenza con la pesistica si consiglia almeno 150 minuti di cardio a settimana puoi fare il cardio che vuoi, nuoto, camminata, corsa l'importante è che tu lo faccia io considero sempre di fare dei 10.000-15.000 passi al giorno come media indicativa è un'ottima media detto questo però è importante anche allenare gli addominali e fare attività fisica con pesistica questo perché gli addominali devono comunque crescere come muscolo è un muscolo quindi va allenato e gli altri muscoli vanno comunque tenuti tonici perché poi cosa te ne fai se hai una tartaruga scolpita e poi hai un braccino da pulcino, no? fa anche rima quindi è importante unire le due cose però piano piano la dieta è anch'essa un argomento imprescindibile per la tartaruga perché ovviamente si dice che la tartaruga si fa a tavola questo cosa significa? che se tu mangi tanto ovviamente non potrai mai far uscire la tartaruga perché la tartaruga è semplicemente quello strato di muscolo che copre, riserva gli organi interni e tra gli organi interni quindi il muscolo poi c'è il grasso e l'acqua e poi c'è il tuo ombellico ben visibile quindi se non togliamo quella parte di grasso e acqua tra i muscoli e l'ombellico non riusciremo mai a mostrare i nostri bellissimi addominali anche se li alleniamo tutti i giorni quindi diminuendo questo spessore di grasso presente sull'addome andremo a mostrare gli addominali e gli addominali sono quello che più è desiderabile perché sono desiderabili? perché sono tanto difficili da far uscire perché ci vuole tanto sacrificio quindi se stai ascoltando questo video devi sapere che devi fare sacrificio mi dispiace non esistono le formule magiche chiunque ti stia vendendo degli integratori o delle formule magiche ti sta prendendo in giro non esistono le pomate per gli addominali o si esistono solo in condizioni extreme cioè quando tu già sei abbastanza bene con l'addome e ci vuoi dare quel tocco di classe quindi considerando queste tre cose insieme abbiamo detto dieta, allenamento e poi abbiamo parlato anche di capire il nostro livello di body fat perché se non sappiamo da quanto partiamo non abbiamo neanche idea dove dobbiamo arrivare quindi lascia perdere la bilancia la bilancia servirà solo come termine di riferimento soprattutto a quanto sei dimagrito ma non è la bilancia che ti farà vedere gli addominali dovrai tu controllarti facendo delle fotografie settimanalmente o mensilmente considerando sempre la perdita di peso e considerando anche che stai facendo attività fisica quindi la muscolatura andrà comunque a rinforzarsi ok? se hai bisogno di una mano per quanto riguarda la crescita muscolare la crescita dei tuoi bellissimi addominali per l'estate io sono qui per te lascia un like se ti è piaciuto questo video alla prossima ciao